Stasera racconterai... Non lo so quello che racconterò stasera, perciò non lo so di cosa dobbiamo parlare. Probabilmente racconterai la tua storia, probabilmente. Sì, penso di sì, perché la storia, la malattia, il libro, la mia esperienza quando sono andato a Medjugorje, penso di questo che si tratta perché non ci ho parlato, perciò non lo so esattamente di cosa devo parlare, però è anche meglio così perché è una sorpresa per tutti. Una battuta la concedi? Chi è il nuovo Sinisa Mialvic sulle punizioni e come cattivella che spaccava le gambe? Ma da dove avete preso questo qua? Una battuta, rispondi. Vai, vai. E' un'altra domanda? No, dicevo comunque improvviserai, però naturalmente, insomma, probabilmente la serata verterà su quello che hai vissuto, su quello che... Penso, non lo so, perché non organizzo io la serata. Ho sovvenuto perché Paolo è mio amico, mi ha chiamato e sovvenuto e so contento di stare qua. Voi domani mattina riparto, però non lo so di cosa si parlerà, ma di qualsiasi cosa si parlerà io non ho problemi, posso parlarci. Naturalmente ti faranno anche delle domande di calcio perché una te la faranno. Vabbè, calcio non è... vediamo, dai. Però ecco, una battuta soltanto sul calcio, su questo calciomercato che non è stato, diciamo, scintillante, però magari c'è stato il colpo Messi e in Italia è partito Lukaku, è partito Donnarumma. Vabbè, ma dopo due anni di Covid e tutta sta roba, comunque è un mercato, diciamo, partito a ribasso, poi piano piano ultimi, come tutti, a risparmiare. Nei ultimi giorni si farà qualcosa, come si sta facendo, però va bene. Ti dispiacerebbe se partisse Orsolini? Sì, mi dispiacerebbe, ma non parti.